Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo e oggi siamo nel quarantesimo episodio della nostra Master League, signori, su East Pro Evolution 2 con la Roma, signori. Scorso video abbiamo battuto il Borussia Dortmund 1-0, scontro fra la prima in classifica e l'ultima in classifica, speravo in una goleada e invece siamo riusciti, sono venuti a fare un 1-0 striminzito, però l'importante era vincere. Siamo primi in classifica a pari punti con il Buenos Aires, ancora mi brucia la sconfitta con il Buenos Aires, signori, avessimo vinto quella partita che ho sottolotato, ho decisamente sottolotato. E quindi, signori, non possiamo fare acquisti in questo momento perché abbiamo solo 15 punticini, se non mi ricordo male, andiamo a vedere subito. Abbiamo, sì, 14 punti, quindi acquisti non ne possiamo fare. Volevo farvi vedere la classifica marcatori in cui Henry è, diciamo, terza con 11 punti, con 11 gol a pari punti con Birov. Primo c'è Helber con 15 e Kordit con 13 e poi noi abbiamo Babangida con 6 al diciottesimo posto e poi Stojkavic con 2 che chiude la gradatoria. Quando riguarda la classifica assist, primo Babangida con 9, poi Stojkavic con 3, Harry e Vorlanden con 2 e stop, la classifica si ferma qui. Detto questo, signori, visto che non possiamo fare granché di mercato, procediamo con la prossima partita e non perdiamoci d'animo. Mi è piaciuto Stojkavic, il scorso video ha giocato bene, ha giocato bene, si è trovato bene in difesa, in difesa, sì, vabbè, si è mosso, si è mosso bene. Allora, andiamo in posto della formazione, signori, formazione, cambia, vediamo se ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, perfetto, poi in situazione dobbiamo cambiare. Allora, andiamo un attimino a sistemare Turam e Valery centrale. Strom e la Riorga, Chiellini fuori per Cellini, chiedo scusa, per Totti. Poi Vorlanden dentro per Ximenez, al posto di Espimas gioca Stojkavic, Babangida gioca al posto di, vabbè, Miranda, che cambia con Harry, che cambia con Castelo, che cambia con Jorni. In tutto questo è tornato Cafu, bene, quindi lo andiamo a mettere sulla destra, no, lo andiamo a mettere qui e poi lo spostiamo da questa parte così. Perfetto, detto questo dovremmo essere sistemati, Valery e Turam al centro, Jorga e Cafu sull'esterno, Totti Vorlanden, Stojkavic, Harry al centro, Babangida e Jordi. Perfetto, signori, la squadra c'è, contro chi giochiamo contro il Barcellona. Bene, bene, ottimo signori, ottimo, il primo superclassico l'abbiamo vinto 4-0, il primo superclassico, no, ho sbagliato a dire, la prima partita con la formazione spagnola l'abbiamo vinta per 4-0. Vediamo oggi cosa riusciamo a fare, riuscire a surclassare il Barcellona sarebbe tantissima roba, ecco, cioè già partiamo così signori, non surclassiamo proprio nessuno, già è assai, ecco. Mamma mia, abbiamo questi buchi difensivi, cioè non sono buchi, però queste incomprensioni difensive che, ma porca miseria, Jorga, Jorga cerca subito il Bamba, cerca subito il Bamba che cerca Totti, Totti, Totti si gira, bravo Totti, Totti che cerca Stojkavic, Stojkavic che già mi stavo fermando. Attenzione, 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 attenzione a figo, attenzione a figo, signori, attenzione a figo, vale, ritienilo. Subito, un'intraversione così al centro, bravissimo, va bene così, noi recuperiamo il pallone con Stojkavic, attenzione Stojkavic, 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 Stojkavic. Gli ha tirato, gli ha tirato uno straccio bagnato, abbiamo riuscito a fare un 1-2 bellissimo, 1-1-2 bellissimo, non riuscite a fare, Stojkavic poteva trovare un gol bellissimo e farsi un attimino riaccettare da tutti. Non so se l'avete criticato negli ultimi video, però, 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 mannaggia nella miseria, Cafu, ancora, per Jorni, che si è perso un pochino, Jorni, no, 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 butta la terra in qualche maniera, Turam, pallone recuperato, Turam, Jorga, Jorga, cerca il Bamba che ci arriva in qualche maniera, il Bamba, il Bamba, il Bamba, parte lui il Bamba, 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 Babagita se n'è andato, Babagita se n'è andato, Tenton Cross, Mannaggia, Toss, un cross, un cross un po' perso, baci, 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 siete in due, siete in due, siete in due, siete in due, grandissimo il recupero di Jorga, non ci avrei mai dato una lira, però Jorga ha fatto un grandissimo il recupero, grande, anche qui il recupero di Cafu, mannaggia, gli regaliamo la remessa laterale, gli regaliamo la remessa laterale, ma va bene, va bene, va bene, attenzione, 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 grandissimo Turam, signore, che cos'è, oh, mi ha dato una spallata, mi ha ammazzato il giocatore, Jorga, io sì, Jorga, io vanno, però scusatemi, dico, va bene il gioco fisico, però mi sembra a certe volte un po' che si è esagerato, attenzione, il Bamba, è riuscito a partire il Bamba, che però si ferma, doveva darla a Stokavic, no, sta via di mezzo, non è servita a niente, deve essere un pallone per Stokavic, attenzione, ancora, pallone aperto, pallone aperto, Jorga, Jorga su Pujol, Pujol, che parte per le linee difensive, ma riusciamo a tenere difensivamente di testa, no, 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 mamma mia, l'hanno buttata fuori, mamma mia, come l'ha buttata fuori Littmanen, ci eravamo completamente persi nella fase difensiva, Jorga, mamma mia, che brutta palla per Babangita, Jorga mio, Jorga mio, che brutta palla per Babangita, riusciamo a levargliela senza fallo, riusciamo a levargliela senza fallo, no, non ci riusciamo a levargliela due, è saltato davanti, ha presa traversa, mamma mia, Jorga mio, allora, tu sei molto vicino a essere buttato fuori da qualsiasi, Jorga, ma che cazzo non lo fai, Jorga mio, due passaggi hai fatto, due cagate hai fatto terribili, la terza ti butto fuori, io sto a dire, mamma mia, non mi fa riuscire il romano che non è in me, perché non sono romano, signori, però, mi, 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 Jorga mio, aveva fatto un gran recupero a un certo punto, Ivanov, allora, questi stanno a pressa un po' troppo, questi stanno a pressa un po' troppo, quindi dobbiamo dargli una lezione per fargli capire come deve andare questa partita, Jorga, tu il secondo tempo non te lo fai, Jorga mio, no, 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 hai fatto un gran recupero, Babangida per Stojkavic, 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 ancora, oh, questi non sono falli comunque, no, no, non, 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 non sono falli, non, 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 non sono falli, attenzione, attenzione che la c'è la sottoposizione, gli passa sicuro, sicuro il pallone, fanno un bagno, vai Turam, vai Stojkavic che la recupera lui, Stojkavic, se ne va, Stojkavic, 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 per Harry, che però è chiuso, Harry, 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 per Totti, per Totti, per il Bamba, che riuscì a partire, al 37esimo, il Bamba, il Bamba, il Bamba, si crea lo spazio, il Bamba, il Bamba, il Bamba, non lo chiude nessuno, il Bamba, il Bamba, non sa che cazzo non la darla, il Bamba. Attenzione, Figo, Figo, attenzione, Figo contro Valery, Figo contro Valery, 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 Turam, allora, aver comprato Turam, signori, ci ha dato una sicurezza difensiva, che, mamma mia, ancora, tra Valery e Turam se la giocano bene, Stojkavic, 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 cerca Totti, che cerca Jorga, che cerca ancora Totti, Mamma mia, Jorga, ti butto fuori, ti butto fuori, ancora, Stojkavic, alto un metro, una tic-tac, signori, non possiamo far saltare di testa Stojkavic, Vorlanden, parlone per Stojkavic, che si infile in una zona brutta, si infile in una zona brutta, e non riesce, però, nel contromovimento, no, liscio, terribile, liscio, terribile, e levagli alla sta palla, ancora, Totti, 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 che l'apre per Jorni, 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 cerca la ripartenza, ma non li riesce, allora, signori, Jorga, se ne andrà a fare, no, Jorga è la prima volta che faccio una sostituzione, che non è, allora, intanto, andiamo a spostare la babangita per Jorni, Jorga mio, mi dispiace, hai, ci hai provato, ma non è il tuo, non è il tuo mestiere, decisamente no, decisamente no, Vediamo se nel secondo tempo riusciamo ad Cafu, 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 Cercato, il Bamba, che però cerca il momento sbagliato, attenzione, Stojkavic, Stojkavic la tiene, questo è grandissimo il movimento di Stojkavic, signori, Stojkavic, 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 che cerca il babangita, babangita, attenzione, Jorni, annaggia, Bravo Stojkavic, bel movimento, Totti, 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 per il Bamba, Bamba per Harry, Harry, che si è creato lo spazio, attenzione, Cecil è entrato al posto di, Cecil è entrato al posto di, grande Cecil, di Jorga, di dimostrare di, essere stato, una buona scelta del mister, attenzione, figo contro Cecil, riesce a partire il traversone, bravissimo, qui Stojkavic, 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 spalla a piede, Stojkavic, 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 no, Stojkavic mio, ti avevo detto di farlo 1-2, zio, che cazzo, fai da addormenti, 6-6 si fa munire, va bene 6-6, non ti preoccupare, va bene, quantomeno dai segni di vita, Rivaldo, buono questo primo intervento, attenzione a Turam, 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 non può portarla troppo la palla, riesce ad arrivare a Harry, 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 che cerca il Bamba, che manda fuori giri il difensore del Barcellona, attenzione al Bamba, attenzione al Bamba, che si ferma, si gira, Buono, qui lo stacco di testa, ma non c'è nessuno pronto a intervenire, attenzione a Turam, grandissimo per Vorlanden, Vorlanden che cerca il Bamba, Bamba per Stojkavic, Stojkavic, Stojkavic per Totti, Totti che lancia il Bamba, il Bamba, il Bamba, il Bamba! Ah, azione avvolgente della Roma, signori, azione avvolgente della Roma, bellissimo Stojkavic, per Harry, Harry per Bamba, e Bamba la piazza, l'angolino, Roma 1, Barcellona 0, scusate se è poco, signori, scusate se è poco, bella, bellissima azione, attenzione ancora, pallone recuperato, pallone ancora per Stojkavic, Stojkavic che riesce a mandare in profondità Babagita, Babagita che rientra, annaggia, no, Stojkavic mio, si fa fare il numero da Guardiola, Stojkavic, attenzione, oi, 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 grandissimo così, pallone che arriva nuovamente a Babagita, pallone recuperato, Babagita, 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 c'è, sono Harry, 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 Harry che vede Giorni, Giorni che la stoppa, Giorni che prova il tiro, bellissima l'azione, Giorni ci ha provato, ormai chiuso, Babagita, Babagita per Totti, no, Totti si fa anticipare, perde il pallone, con calma, se si la mette giù, pallone che arriva a Cafu, pallone che arriva a Turam, pallone che arriva a Stojkavic, 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 cercato l'1-2, Stojkavic Stojkavic, ma non era fuori gioco, per me era fuori gioco grosso quanto una casa, bella con quell'azione, bravo Stojkavic, Babagita, per Vorlangen, che riesce a girarsi, Vorlanden, 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 per Turam, Lilia, Turam, Roma 2, Barcellona 0, la segna lui, Lilia, Turam, bravissimo, E' la piazza lì, bello che volevo cercare di passarla a Stojkavic, che non, Turam era sulla linea di passaggio praticamente, e quindi l'ha presa prima lui, attenzione, Roma 2, Barcellona 0, Attenzione, abbiamo due bei golletti di vantaggio, Stojkavic, ancora, palla in cassa, sapete che mi sento tranquillo quando c'ha palla Stojkavic, sta prendendo talmente tanto campo, 1-2 velocissimo, sta giocando centrale, mi sta dando delle sicurezze importanti, mi fa piacere, so che se la gioco al centro non sono più tanto scoperto come magari ero prima, Attenzione, Totti, grandissime govero di Totti, Totti per Vorlanden, che la perde lì però, Attenzione a Kluivert, Turam, Attenzione che la Roma non la butta, la Roma non butta il pallone, la Roma non butta il pallone, riesce a uscire con Totti, 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 Totti per Stojkavic, 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 fa fuori il giocatore, fa fuori Guardiola, fa fuori Guardiola, poi la d'Arri, Arri, mannaggia, 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 attenzione, Cafu contro Rivaldo, bello brasiliano, non ci sta, e arriva Turam, arriva Turam, signori che però regala la rimessa laterale al 33esimo a Barcellona, fuori Pujol, dentro Reitzinger, grande, palla buttata da Barcellona, figo, non ci arriva, figo, non ci arriva, Sesi per Valeri, che la gira per Totti, che la gira per Stojkavic, 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 per via centrali, Stojkavic, Stojkavic, ancora lui, Stojkavic, Stojkavic, mannaggia, si è sbagliato il movimento del pulsante, grandissimo, per recupero al centrocampo, Cafu, 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 preferisce aprirla tutta per Babangita, che è velocissimo, Babangita ci arriva, il Bamba, il Bamba, pallone indietro per Arri, che la butta fuori, porca miseria, porcaccia di una miseria, pallone al centrocampo, che viene recuperato dal Barcellona, ancora, Vorlanden, Vorlanden per Cafu, Cafu, che cerca il Bamba, il Bamba va bene in anticipo, il Bamba, Bamba per Vorlanden, Vorlanden per Stojkavic, 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 che chiede l'1-2, ma è troppo lungo il pallone di Arri, Stojkavic si sta guadagnando, mamma mia, mamma mia, Ivanov, mamma mia, meno male che non ha tirato di prima Klaivert, se Klaivert tirava di prima, signori, era 2-1 del Barcellona, e invece non si è fidato di tirare di prima, noi siamo riusciti a stopparla, a buttarla fuori, e soprattutto siamo riusciti a non fare fallo, dal rigore, pallone troppo lungo, signori, Barcellona nella confusione più totale, Barcellona nella confusione più totale, Bravissimo, vedi, se si riesce a fargli i passaggi, attenzione, pallone per Arri, 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 ancora, Arri, 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 cerca il Bamba, che si è creato lo spazio, il Bamba, il Bamba, il Bamba, no, volevo fare 3-0, annaggia, ma porca miseria, ma porca miseria, signori, vittoria storica, vittoria storica, otto tiri a sei, abbiamo vinto 2-0, signori, in tutto questo il Madrid ha battuto il Buenos Aires, dai così, grande Real, il Dortmund pareggia con l'Inter, ottimo risultato anche per noi, la Lazio batte 2-0 la Juventus, altro risultato importante per noi, il Monaco batte 2-1 il Chelsea, risultato che forse non ci cambia tanto, e il Manchester batte 3-0 il Milan, autori del gol, assist di Arri per gol di Babangira e assist di Vorlanden per gol di Turam, primo gol con la maglia della Roma per Lilian, Turam, signori, sempre più primi in classifica, con la nostra Roma ci portiamo a casa 10 punti, tondi, tondi, saliamo a quota 24 punti, e la cosa si fa davvero interessante, signori, 24 punti, siamo primi a 24 punti, neanche scherzarlo, seconda la Lazio a 23, segue il Bayern di Monaco con 21, il Buenos Aires con 21 e l'Inter con 20, signori, voglio solo vedere una cosa a chiusura di video, con 24 punti, riusciamo a prenderlo il marocchino? Argi costa 26, annaggia la miseria, Argi ne costa 26, niente, ci serve un altro risultato favorevole, signori, un altro risultato favorevole nell'episodio di venerdì e domenica ci andremo a prendere Argi, signori, per sistemare l'attacco, decisamente sì, decisamente sì, così rimetteremo Argi sulla faccia di sinistra, giorni lo mettiamo sulla linea difensiva, e secondo me, signori, la squadra c'è, secondo me la squadra c'è. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i giocatori e per il supporto, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento, bella raga, ciao!